Asfanè, asfanen, dal dialetto piemontese non si fa. Se credessimo a tutto ciò che ci viene detto, alle negazioni imposte, alla poca fiducia talvolta riposta nell'innovazione, non andremmo certamente lontano. Fortunatamente c'è chi crede nel futuro e prima ancora di tutto in se stesso. Iniziano così i viaggi roccamboleschi alla ricerca di una soluzione, ad una domanda che ancora non esisteva, tra immaginazione e realtà, in quel limbo sottile ma così intrigante da tanagliare la mente a progetti innovativi in un futuro surreale. Vi siete mai trovati nella complicata condizione di dover realizzare la vostra ambizione? Vi siete mai trovati in quel limbo destabilizzante di non comprendere più se siano più forti le vostre origini, le vostre radici o il vostro futuro, la vostra ambizione? E di sentirvi dire non si può fare, non si fa. Ecco, io sì e questo mi ha sempre dato la forza per combattere e vincere su quei no, quelli inutili. Ricordo che quando ero bambino ero un bambino timido e silenzioso. Al tempo stesso ero carico di energia, voglia di disegnare, di creare e di sognare. All'età di sette anni, al tempo stesso, mio cugino Gigi vinceva il mondiale a rally e per me lui era un faro, una luce di successo. Decido così di comprare un album da disegni e una matita e inizio a replicare su quella carta le auto che vincevano le gare. Quella matita, tutto a un tratto, era diventata la chiave della mia stanza segreta, dove potevo rifugiarmi qualsiasi volta lo volessi. Era la stanza della creatività, la creatività che è l'unico lusso che tutti noi ci possiamo concedere, in qualsiasi ambito. E così anche a scuola i quaderni di matematica diventavano delle officine perché incasellavano i quadretti, le automobili e quelli d'italiano diventavano delle piste sulle quali far correre, sulle cui righe far correre le ruote della mia fantasia, fuori da quel banco, fuori da quell'aula, fuori da quella scuola, fuori da quella città, fuori. E qualche volta una voce mi chiamava alla lavagna e quella era la maestra. Lei probabilmente non aveva le chiavi della mia stanza e non sapeva dove fossi io. E così erano anche gli anni delle delusioni perché i miei quaderni tornavano a casa vestiti di rosso. Decido di buttare via quella chiave e inizio a impegnarmi a scuola, passo le elementari, passo le medie. Ma il secondo anno del liceo classico, all'inizio di un'estate, vedo il mio nome appeso come il primo dei perdenti, un unico bocciato, è quel loro io. Il percorso che feci successivamente non annientò mai quella ghigliottina della vergogna sulla coscienza. Anzi, ne aumentò la rabbia e la fame di riscatto cresceva vertiginosamente, alimentandosi dentro di me, come un mostro. Nell'anno delle decisioni andai a ricercare quella chiave e riapri quella stanza dove c'era forse la mia unica forza. E così a 19 anni prendo un treno e vado a Torino a imparare a disegnare le automobili. Quella che era passione diventa così studio per poi diventare lavoro, per poi diventare realtà imprenditoriale che due anni fa mi ha permesso di creare il primo marchio di automobili italiane ecosostenibili ad alte prestazioni. Ma tornando alle origini, quella stanza era, a parte le auto e i camion, era una fucina di intuizioni e di idee perché da lì sono uscite le sorpresine kinder, i giocattoli, le architetture, gli occhiali. Ma la strada per emergere era ardua perché ai colloqui vengono rubati i disegni e nei centri stile viene omessa la firma di noi creativi. Ma nel 2013 esce anche una notizia in prima pagina sul Corriere della Sera che dice un giovane italiano ha disegnato l'automobile più venduta in Cina. È un'automobile che sorride, che porta positività perché assomiglia al pesciolino Nemo della Walt Disney ed effetti avevo replicato gli stessi tratti somatici su quella macchina del pesciolino. Tutta la stampa italiana mi insegue, così anche la mia azienda che ha una reazione furibonda. Durante il processo, durato un anno e mezzo davanti ai giudici, era difficile dimostrare che quell'auto l'avevo disegnata effettivamente io. Ma feci capire che quello stesso linguaggio stilistico era stato utilizzato in tutti gli altri prodotti che avevo disegnato nel corso del tempo e così vinco la battaglia della verità. Da quel momento decido che devo disegnare auto che portano soltanto il mio nome e che sono legate indissolubilmente a quella natura dove ero cresciuto, fra le mie montagne, le mie dolomiti, dove l'aria è pulita e dove l'acqua sgorga dalle sorgenti. La mia auto doveva essere testimonia, le vanto della mobilità ecosostenibile, la mobilità pulita. Sono in Cina, in Henan, nel mezzo della Silk Road, la via della seta, e a Zhengzhou, una megalopoli di 9 milioni e 6 di abitanti, una notte dall'alto di un hotel, riscopro con sorpresa che un mio disegno fatto 15 anni prima non era invecchiato. Era rimasto giovane come un quadro di Dorian Gray. E così decido di realizzarlo e di metterlo su strada. Torno in Italia e insieme alla complicità, alla passione e all'entusiasmo del mio amico Paolo e poi socio, decidiamo di mettere assieme una squadra di eccellenze manifatturieri italiane per creare un'automobile che fosse un connubio fra alta tecnologia e massima artigianalità italiana. Eravamo in aprile e l'idea era di presentare l'auto in giugno 2016 al Salone di Torino. Il nome frangivento, perché qualsiasi cosa che si muove frange il vento. Spesso all'uscita di queste aziende ci si trovava sulla porta con una deludente pacca sulla spalla e un asfanen. E questo asfanen mi risuonava nella testa mentre dormivo. Un giorno decido di andare da Salvatore, il papa di Paolo, in officina e gli chiedo ma che cosa vuol dire asfanen, Salvatore? E lui mi dice Giorgio guarda che asfanen vuol dire non si fa, non si può fare in dialetto piemontese, non ce la faremo mai ad arrivare al Salone di Torino. La grinta e la determinazione aumentavano minuto dopo minuto, così come le notti insonni. Il 6 giugno 2016 al Salone di Torino esordiva davanti ai riflettori della stampa mondiale, davanti ad una folla di curiosi, quell'auto che portava il nome di Asfanen. Asfanen, la contrazione di quel detto demoralizzante, era diventato il nostro cavallo di battaglia per sconfiggere tutte quelle opposizioni che trovavamo fra noi e il nostro sogno. Ed i sogni ne abbiamo tutti e qui in platea ognuno di voi sicuramente ne ha uno in testa. Innamoratevi del vostro sogno e conquistatelo perché si può fare. Asfanen. Grazie. 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 Grazie.